Ciao amici di MyFootballJersey, continuiamo con le comparazioni e questa volta della maglia della nazionale della Francia, della prima maglia della nazionale della Francia, quella che indosso è la versione player e questa è la versione fan. Mi raccomando continuate a guardare il video fino alla fine per vedere poi la diversa vestibilità tra queste due versioni, ci vediamo dopo. Come al solito una delle principali differenze è che nella versione player lo stemma e lo sponsor, diciamo così lo sponsor tecnico Nike, sono termosaldati mentre nella versione fan questi sono ricamati. Per il resto le maglie sono veramente molto simili se non che nella versione player il tessuto è molto più traspirante e ha un motivo veramente molto bello che spero le immagini riescano a rendere. Un'altra differenza che poi vedremo anche dopo nella vestibilità è che nella versione player la vestibilità è più ridotta. Gli è piaciuto il video? Questa maglia secondo me è molto bella, peraltro trovate qua in alto il link per andare a vedere la recensione che ne ho fatto. È una maglia molto bella e vi ricordo che nella versione player ha una vestibilità ridotta perché è pensata per il fisico degli atleti. Questa invece che vedete è la versione fan quella un po' più comoda pensate ai tifosi. Come avete visto da lontano le differenze non sono tante però poi quando si va a vedere nel dettaglio la versione player che io preferisco sempre è una versione un po' più ricca un po' più tecnica secondo me è più bella. Vi ricordo come al solito che nella versione player vista la vestibilità più sfiancata si consiglia sempre una taglia più grande. Questa ad esempio che prima indossavo è la versione player e è una taglia large. Questa invece che indosso ora è una versione fan e di questa a me basta la taglia media. Io spero che il video vi sia piaciuto e spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto ci vediamo alla prossima ciao